Ciao amici benvenuti in questo nuovo episodio di The Last of Us Meglio non dire che che ore sono perché è veramente molto tardi L'ultima volta ci siamo lasciati proprio in questo punto Allora ci siamo lasciati proprio in questo punto in cui abbiamo questo mostro Purtroppo Io direi che è meglio equipaggiarci con un'arma un po' più pesante Così lo possiamo Ah cazzo ci sono anche gli altri mostri Porta la puttana Mori bastardo Mori pure tu pezzo di merda Scappa 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 Perché ho notato che questo coglione mi tira anche cose Purtroppo Vediamo se muore sto bastardo pezzo di merda Tira delle cose E' carica migliore mi ricarica Porca la broia Ma più carica veloce là Per questo muoio Dov'è? Dov'è sto cesso umano Mica poi non muore Cioè mi sta facendo consumare tutte le munizioni Oh cazzo Dai dai Non ricarica vedete Cioè assurdo Cioè assurdo Scappa 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 Cioè assurdo Dov'è sto coglione? Là Scappa Si ricarica Si ricarica Cazzo Non muore Non muore Non muore Non so come fare più Non so come fare ragazzi Cioè E' compro Tutte le pallotte Che avevo Allora le ho toccolo in testa Assurde Veramente C'è assurdo Assurdo Non lo so Ditemi voi che devo fare Ma 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 Scappa Ringoglionito Cosa c'è qua? Oh cazzo Scappa scappa Non muore Non muore Veramente Di male in peggio Di male in peggio Vediamo se riesco a prendere Qualche altra arma Velocemente Questa mi è rimasta Oh no Ma 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 poi Gli altri due Ringoglioniti Non fanno un cazzo Io questo vorrei capire Scappa Io questo vorrei capire Gli altri due Cosa fanno? Non fanno un cazzo Ma posso stare tre ore qua Per il mostro? Dai muore Oh non ci credo È morto Non ci credo Ragazzi Finalmente Cosa è successo A quel gigante? È infetto da molto tempo Quelli così Li chiamiamo Bloater Bloater Ok Capito Odio interrompere Le tue lezioncine Di biologia Ma possiamo uscire Per favore Sì Un attimo Mamma mia Oh assurdo Assurdo Comunque Il segreto è Colpirlo in testa In pratica Ok Dai Andiamo Ce ne usciamo Da qualche parte Usciamo di qua Veramente Assurdo Veramente Assurdo Questa Questa situazione L3 Oh mio dio Un attimo Questo Li uccide Bastardi Morite Morite Bastardi Bastardo Mori Mori Minchia Quanti cazzo C'hai Bastardo No Ehi Non ti Non ti Per Mettere Ehi Ehi Morso Sto rintoglianito Mamma mia Perché poi vengono All'improvviso Anche se Lo so Anche se Grazie per le munizioni Comunque Dai Mi aiutate o no Ok Grazie mille Andiamo Che ansia Che ansia Va bene Un grilato Non c'è bisogno Che stai a grilato Oh no Oh no Ci seguono Non fermatevi Vi seguo Eh che cazzo Lo sapevo io Che cazzo Eh che cazzo Ma di giro Girati Mori Un pezzo di mezzo Ok Minchia Ma quanti cazzo Ce n'è Mori Col cappello No basta Eh non è che posso Sare qua Tutto il tempo Eh Che cazzo Gridi Entrate in casa Subito Può prendere questo Non mettere in mezzo E può ficcarselo Dritto Questo non ha niente Che Oh Cristo Conoscevi questo tipo Frank E che cazzo è Frank Era il mio compagno L'unico coglione Che indosserebbe una camicia Come quella Ha dei morsi Qui Ok Penso non volesse trasformarsi E abbia Già Penso di no Beh si fotta Guardate che ho trovato E c'è benzina Nella mia batteria Quello stronzo Vieni fuori Vieni fuori Che idea La batteria è scarica Ma Le celle sono ancora attive Quindi? Quindi La spingiamo La avviamo E l'alternatore Ricaricherà la batteria E funzionerà? Ascolta Volevi un piano B Questo è il migliore al momento Che ne pensi? Penso che tu guidi E noi spingiamo Gesù Altra roba mia Ok Allora Abbiamo trovato Una macchina Finalmente E adesso dobbiamo Spingerla Però Come la spingiamo? Dovresti cercare in casa Penso ci siano altre scorte Ok Buona idea Grazie per il suggerimento Cerchiamo in casa Altre scorte Ti faremo un urlo Cerchiamo altre scorte Perché sono fondamentali Sia per la nostra Sopravvivenza Ma anche per Forse Far partire la macchina Anche se Dovremmo Semplicemente Spingerla E forse Partirà E ci porterà Da qualche parte Comunque Queste numerose ricariche Di cose Mi fanno pensare a Non poche lotte Che breve Forse Faremo Faremo Allora Qui abbiamo Questo Ok Noi tutto quello Che ci possiamo prendere Ce la prendiamo Tut medico Proprio Tutti quelli che ci sono Ok Vediamo se ci sono Altre stanze Non so se si possa salire Perché qua mi pare Che è infatti Qua è bloccato Dai divani Questo è l'amico Che conoscevamo Forse Non c'è più niente No Non c'è più niente Ok Ho finito Sì 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 Che devo fare Vediamo le che dice Pensi di farcela Sì Non c'è problema Stai andando alla grande È giusto dirtelo Non ti deluderò Tranquillo Ok Ok Vediamo se possiamo Spingere questa macchina Alla fine La sto spingendo Solo io Vabbè lui è per il garage Sono pronto eh Mettilo di prima Già fatto Tieni il piede sulla frizione E quando si mette in movimento Oh come si lascia la frizione Come diavolo Non mi interessa Non fare cazzate Ok Ellie stai pronta Ora Schiaccia ora Schiaccia Dio santo Ah la c'è È partita Non sei d'aiuto Ah non c'è Ellie dobbiamo riprovare Resta concentrata Dobbiamo arrivare alla collina Dobbiamo solo superare la cima Lo sapevo io Lo sapevo Oh mio dio Oh mio dio Sta gioia Accadimento Ma creta Ma vai a fare un culo Io stavo facendo partire la macchina Ma toglietemi Non so Allora Ragazzi Oh mio dio Questa è proprio Inferocita Mori E non mi rompe il cazzo Oh mio dio Una mano mi farebbe comodo Sì è sto ponendo Ma poi sempre le mani vuoi E io non farei mai il cazzo Per quanto sto morrendo io Siamo a posto Torniamo al camion Ok Perché giustamente Dovevo Vabbè Spingiamo sto cazzo di coso Continua a spingere Sto cosa sto facendo Continua a spingere Più di questo che cazzo devo fare Ah che palle Ma vai a rubarti il cazzo Tu cagliari Mi sapevo Ti invagliarmi Ma vai a fare un No il creeper Non il creeper Scappa 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 Il creeper Lode Scappiamo molto lontano Ci giriamo Ci giriamo Questi che mi seguono Ok Ok L3 Oh no Oh no Oh no Ellie Bastardo Non ti permettere Ti uccido Pezzo di merda Pezzo di merda Non ti permettere Eh Scioccarelli Allora Scappa Perché sicuramente Ce l'ho rinculati Tutti dietro Sicuro Ok No Non ho kit medici Ragazzi Non ho kit medici Prendiamoci una bella arma Mamma mia Di nuovo Di nuovo Di nuovo Ma tu Oh mio dio Oh mio dio Ma chi è che grida Miglio Il bastardo Vai Dai Ricarica Dio santo Dai Abbiamo poco tempo Torniamo a spingere Ma se quella Sta morendo Che torni a spingere Cos'è Aspetta Ma non ti permettere Prova Ma non ci provano a copia Ma mangio Allora di pensare Una cosa di questa Buttana Troia Allora Qua c'è qualcosa per noi Ok Queste cose Non ce le fa prendere Torniamo a spingere Sì ma Io sono senza munizioni Senza salute Senza un cazzo Eh Ma aspetta Obalia Devi aspettare Oh mio dio Tra un po' ti lasciamo I baci Ah un altro Ma un Kriker Questo Eh sì un attimo Un attimo Un attimo Che io faccio una cosa Eh bastardo Non mi faccio Accaventare Secondo Ma aspetta Scappa Scappa Un tempo Arrivo Arrivo Bastardo Preparo Scappa Un attimo Un attimo solo È il tempo di capire A chi devo sparare Minchia Questo è bastardo Non ho più armi Scappa Scappa Intanto Scappa Poi vediamo Come fare Allora Un attimo Che mi equipaggio Ok C'è una tregua Raggiungiamo la collina Ah ok Ci ha pezzato lui Va bene Grazie mille Io mi piglio tutte queste bombe Ah beh Già ce l'ho Dai Spieghiamo Spieghiamo Sto cazzo di Furgore di merda Ok E li metti in moto Dai Spieghiamo Sinto che roba Bill Ah finalmente Significa che l'hanno sentito Anche gli infetti Saliamo sul camion Minchia Vai vai Ce l'ha Ok qui va bene Ferma Non farla spegnere Ok Quella ragazzina Faccia così ammazzati Dai ammettilo Ha saputo cavarsela prima Voi Non ce la farete Tieni Che cos'è? Ti stupirai Di quante auto Hanno ancora benzina Grazie Ehi Bill A riguardo al tuo amico È difficile E io Beh Siamo pari? Siamo pari E allora vattene dalla mia città No Oh, cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, continua. Odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. C'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh, tieni, non ti fa venire nostalgia. Ehi, ma questa è precisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Uh! Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, smettila. Oh, stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ehi, sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! C'è una cosa? Non è male per niente. Perché non proviamo? Non sono stanca. Non è male per niente. Andiamo ad aiutarlo? Là c'è la cintura, Ellie. Ma, scusa, è quel tizio? E' neanche ferito. Oh, no. Alone and forsaken by pain and by man. Oh, Lord, if you hear me, I can. Oh, no, no! Oh, no, no, no! Mi vediamo! Sto bene. Sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu merda! Lassami, pezzo di merda! Sì, ti darò un'è! Pezzo di merda! Forza! Cos'hanno questi visi? Prendi fiatto! Ce le andiamo! Ok! Attento! Merda! Sta giù! Purtroppo, non siamo proprio benvenuti, secondo me! Oh mio Dio, sono senza un cozzolo! E uso questo, ragà, uso questo! Porca troia, non ci voleva! Ricarica! Ricarica! Ok, questo è morto! Comunque, grazie per l'accoglienza agli amici della cittadina di Peasbury! Inoltre, grazie anche perché... Come cazzo, ti fermo! Cagliano! Cioè io mi sono messo a parlare o mi sono distratto? Distratto! Ma porca troia! Ma porca troia! Ok! Io mi sono messo a parlare... Sempre mi vado avanti! Dove? Merda! Bastardo, muori! Bastardo, pezzo di matto! Allora... Io mi sono distratto, un attimo mi sono fatto uccidere, quasi! Oh, cazzo! Eh, bastardo, muori! Bastardo, dove sei? Bastardo! Bastardo! Bastardo, scappa perché stiamo morendo! Stiamo ufficialmente morendo! E mi serve... Un po' di materiale! L'ho steso alla grande! Eh, lo so, però... Joy, guarda! Non mi sfuggirai, sto... Oh, merda! Dio santo! Dio santo! Allora, guarda, sono molto confuso! Sono molto confuso! Bastardo, crepa, bastardo! Ok! C'è qualcosa per me? C'è qualcosa per me? Bene! Credo che fosse l'ultimo! Lo so! Tutto ok? Però... Sì, credo di sì! Mi serve che qualcosa! Bene! Perché dobbiamo uscire di qui! Sai come funziona? Guardati attorno... E vedi se c'è qualcosa che ci può servire! Esatto, lo so! Ricevuto! E infatti sto cercando qualcosa che ci può servire! Perché qua questo gioco è così! Se non c'è le cose... Povero furgone, peccato! Nuovo, nuovo! Furgone nuovo, nuovo! Appena fatto partire, appena sistemato! Ed è finita già così, in modo tragico! Allora, il bastone... Ce l'ho, però... Me lo scambio, perché questo è più nuovo! Quindi ho un colpo in più, insomma! Ok! Usciamo da qua! Anzi, no! Che qua c'è... Un altro kit medico! Perfetto! Usciamo da qua! E andiamo verso l'esterno, insomma, dove... Dove? Non so, però, dove andare! Non lo so! Allora... Non lo so! Vedi niente! Vedi niente? No, non vedo niente! Non vedo niente! Però... 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 Questa zona è tutta nuova! Ma c'è comunque il posto dove andare? Ecco, infatti! Ok, a volte devo... Vai! Trova qualcosa per tenerla aperta! C'è... C'è della roba interessante qua dentro! È lì! Qui sto! Ok, vai! Ok, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Guarda! Ma cos'è? Ma... Ma non lo sto capendo! Aspetta, scusate! Un attimo che voglio tutto io! Ok! Ci menti! Qua non c'è niente! Ma è una specie di laboratorio in cui fanno... Tipo esperimenti! Non lo sto capendo! Non lo sto capendo davvero! Sono... Confuso! Allora, qua ci sono cose che noi ci dobbiamo prendere! Scarpe! Ma perché? Ma lo vorrei capire, però! Cacciatori di merda! Avremmo potuto essere noi! Forse se li mangiano! Un sacco di gente non ce l'ha fatta! Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro! Siamo solo vissuti! Non è la pena! Avanti usciamo di qui! Raga, secondo me sono... Secondo me se li mangiavano! Un attimo solo, però, che mi faccio un po' di cose! Io tutto quello che posso farmi non lo faccio! Nel coltello non lo posso fare, purtroppo! Niente! Però seguiamo! Non posso creare nulla al momento! Spero che non ci siano troppi infetti! Di cosa? Dell'imboscata! Mi sono schierato da entrambe le parti! Così... Uccidi un sacco di innocenti! Lo prenderò per un sì! Prendilo come puoi! Bah! Effettivamente lui... Sapeva che... Unizioni... Qui deve essere dove dormono quegli stronzi! Dove dormivano, devo dire! Cacciato gli merda! Sì, infatti! Cacciato gli merda! Che è sta cosa? Kit soccorso potenziato! Ah, perfetto! Certo, perché più si va avanti col gioco, più ovviamente... Acquisisci cose... Migliori! Di qua non credo... Ah, di qua si può andare! Ok! Spero ci sia qualcosa di utile! Ah, vabbè! Qui posso... Potenziarmi le armi! Ok! Ok, qui praticamente posso potenziarmi le armi! Va bene! Dovrebbe esserci utile! Abbiamo fatto! Prendiamoci archi, frecce... Fumogeno... Lo zucchero... Va bene! Ma prendiamoci tutto! Anche se, per esempio, abbiamo preso le bombe, però non le abbiamo mai utilizzate! Quanto meno al momento! Va bene! Usciamo di qua che mi pare ovvia la cosa che dobbiamo uscire di qua! Eh... Non penso che questi tizi fossero i fatti! Mamma mia! Proseguiamo! Se li mangiano, ragazzi, è chiaro! Se li mangiano gli estremi normali, se li mangiavano! Bene! Ecco il ponte! La nostra via d'uscita è da qui! Bene! Ehi, è lì! Rallenta! Aspettami! Come? Sono qui! Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok! Ok! Secondo me Ci sono gli infetti Troppa calma, c'è, ragazzi, è impossibile Questa calma è impossibile Beh, facciamo una cosa Ci vediamo al prossimo episodio Per oggi è tutto Con questo innesimo episodio di The Last of Us A domani! Ciao! 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 Grazie a tutti.